Sono ripresi nella Biblioteca della Regione in via Confienza a Torino gli appuntamenti di Piemonte da leggere, dedicato alla presentazione di volumi di diversi autori ed editori, accomunati da un unico filo conduttore. Nel primo appuntamento, il 2 marzo, sono stati presentati libri Un'indagine coi baffi, di Graziella Ardizzone, e I pelagra di Giuseppe Furlano, entrambi editi da Baimarronchetti. Si prosegue tutti i mercoledì con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.